cartagine venne fortemente penalizzata dalla perdita della sicilia e dalle dure condizioni di pace imposte da roma ben presto quindi cominciò a pianificare la rivincita l'oligarchia mercantile che guidava la città capeggiata dalla potente famiglia dei barca intraprese allora l'espansione nella penisola iberica conquistandone buona parte i successi dei cartaginesi suscitarono forti preoccupazioni a roma era chiaro che cartagine stava ponendo le basi per riaprire il conflitto era questa la strategia del generale annibale egli espugnò la città spagnola di sagunto alleata dei romani provocando l'intervento di roma e l'inizio della seconda guerra punica attraversati i pirenei e la gallia annibale varcò le alpi sconfitti i romani sui fiumi ticino e trebbia nell'italia settentrionale entrò in etruria e nel 217 avanti cristo sul lago trasimeno sconfisse di nuovo i romani guidati dal console caio flaminio la strada per roma era aperta ma annibale constatando che gli italici restavano fedeli a roma si spostò in puglia per sollevare contro i romani le colonie greche l'esercito inviato da roma in puglia fu pesantemente sconfitto a canne nel 216 avanti cristo l'esercito 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 l'esercito